E rieccoci qui ragazzi nel nostro ultimo tutorial di questi tre sulle jlist In questo video andremo a vedere come modificare ulteriormente il nostro programma Per poter cancellare gli elementi dalla nostra jlist Andiamo subito ad aggiungere un bel jbutton qui Lo chiamiamo cancella Così Facciamo un bel doppio clic E lo andiamo a programmare Allora per cancellare ci serve Anzi per cancellare possiamo utilizzare l'istruzione remove Che appartiene al nostro list model Quindi al nostro modello di lista dove sta Questo qui Praticamente l'istruzione che dobbiamo fare è la modello.remove Questa qua Come vedete ce ne sono diverse Quella che interessa a noi in questo momento è la remove La prima quindi questa qui Ce ne sono altre per esempio Quelle che permettono di rimuovere da un range Quindi da una certa posizione ad un'altra posizione Tutti gli elementi Quella che permette di rimuovere tutti Proprio in assoluto gli elementi della lista E vabbè ce ne sono altre insomma Ma quello che interessa a noi è questa qui Cosa vuole questa qui? Vuole l'indice Dell'elemento da rimuovere Tenete conto che la nostra lista Possiamo intenderla come un vettore Quindi il primo elemento Sarà quello di indice 0 Il secondo di indice 1 Eccetera Quindi qui Andremo a metterci Il numero dell'indice Che Scusatemi L'indice dell'elemento che vogliamo rimuovere Per ottenere L'indice degli elementi selezionati Quindi quelli che vogliamo rimuovere Facciamo così Ci dichiariamo un bel vettore Di tipo int Che chiamiamo indice Che sarà uguale al list Punto get selected Scusate Dicevo get selected indices Questa qua Che è una funzione che ci dà appunto Un vettore di interi Che guarda caso è com'è questo qui nostro Con dentro tutti gli elementi Appunto Cioè tutti gli indici degli elementi Che noi vogliamo Che abbiamo selezionato Ok quindi se io seleziono L'elemento 0 L'elemento 3 E l'ultimo elemento Che è per esempio il 5 Avrò in questo vettore indici 0, 3 e 5 Dopodiché Non ci resta far altro Che è un bel ciclo Per i che vada a 0 Finché i è minore Di indici punto length Cioè Scorriamo tutto il nostro vettore di indici Partendo dalla posizione 0 E andando avanti Finché non arriviamo appunto Alla lunghezza del nostro vettore Tenete conto che se ci sono 3 elementi qua dentro Quindi le celle sono 0, 1 e 2 Il totale è 3 Cioè ci sono 3 elementi Il primo è lo 0 L'ultimo è il 2 Quindi la nostra i partirà da 0 Partirà da qua E finché sarà minore di 3 Quindi finché arriva a 2 Andiamo a rimuovere Dal nostro modello Qua mettiamo una i più più ovviamente E qui Ci va il nostro modello Punto remove Modello punto remove Che cosa deve rimuovere? Deve rimuovere Indici di i Ovvero deve rimuovere L'indice dell'elemento selezionato Che sta in quella cella appunto Del nostro vettore indici Ok E niente Così Non ci resta far altro che aggiornare il nostro modello Quindi facciamo una bella list Punto Set model Modello Proviamo ad avviare Allora aggiungiamo Ah ovviamente non ho aggiunto niente Vabbè pizza Polpetta E prosciutto Ok Dopodichè andiamo ad eliminare la polpetta Diciamo cancella Lui l'ha cancellata vedete E poi ce l'ha ridata Se adesso vado ad aggiungere Che ne so Un 33 Lui me lo aggiungerà sempre alla fine Proviamo a fare la somma Ci viene 43 Benissimo Proviamo a cancellare sia la pizza Che il 33 E lui ce ne ha cancellato solo uno Perché Vediamo un po' Che cosa dice 3 maggiore uguale di 3 In che senso? Non lo capita questa qua Dice che siamo usciti Dal nostro vettore Allora credo di aver capito Dove è l'errore E se è così Lo possiamo risolvere tranquillamente Allora Se la mia teoria non è sbagliata Quando noi andiamo ad utilizzare Questa istruzione qua Il nostro modello viene aggiornato No? Quindi facciamo finta di avere Questo modello qui Pizza 33 E banana Ok Quindi la sua lunghezza È di 3 elementi No? E quindi il nostro vettore indici È di 3 elementi Benissimo Cioè Facciamo finta di selezionare Scusatemi Questo È questo qui Il nostro vettore Sarà Di 2 elementi In questo caso Saranno quello di indice 0 E quello di indice 2 No? Quindi questo è lo 0 Questo è l'1 E questo è il 2 Benissimo Facciamo finta di avere Appunto Di essere entrati In questo ciclo qui No? Quindi la i vale 0 Finché i è minore di Indice.length Quindi finché i è minore di 2 E ogni volta La i si incrementa Che succede? Rimuoviamo dal nostro modello Il primo indice Cioè lo 0 Quindi questa pizza Se ne va A questo punto però Guardate un po' che succede Succede che questi due Vengono aggiornati Cioè il nostro modello Viene automaticamente aggiornato Quindi il 33 Avrà come indice 0 E la bana non avrà come indice 1 Perché quello che c'era prima Cioè la pizza L'abbiamo cancellato Quindi adesso Se noi andiamo A rifare il ciclo Perché dato che Dobbiamo farlo finché La i non raggiunge Indice.length Quindi finché la i non raggiunge 2 Perché gli elementi Del nostro vettore Da cancellare erano 2 Lui andrà a Fare di nuovo La remove La remove di che cosa? Dell'oggetto Nel nostro modello Alla posizione Indice di La i vale 1 In questo caso Perché è la seconda volta Che siamo in questo ciclo E quindi Andrà a togliere Questo Elemento Cioè Andrà a prendere Questo indice E a togliere Dalla lista L'elemento Che si trova A questo indice qua Cioè All'indice 2 Attenzione però Qua non c'è più niente Proprio perché noi abbiamo Già cancellato Un elemento Come facciamo a risolvere Tutto questo? E' semplicissimo Ci creiamo una bella variabile Io la chiamo x Giusto per precio E la inizializziamo A 0 Ogni volta che facciamo Questa cosa Semplicemente La x La incrementiamo E la andiamo a sottrarre A quello che c'è Qui dentro In questo modo Che succede? La prima volta Non viene sottratto niente Quindi viene tolto L'elemento 0 La seconda volta La x varrà 1 E quindi Che cosa si andrà a togliere? Si andrà a togliere Quello che c'è In indici di Cioè 2 Meno 1 Cioè Alla posizione 1 Quindi verrà fatto Una modello Punto remove Di 1 Cioè Di banana Che era appunto Il secondo elemento Che noi volevamo cancellare Se mettiamo 50 elementi Così E ne prendiamo 50 Vi assicuro che funziona lo stesso Facciamo una prova Quindi sto riavviando Schrivo pizza 33 E banana Guardate un po' Provo a cancellare pizza e banana E lui me lo cancella senza problemi Per sicurezza Ci facciamo anche dire Quanti elementi ci sono nella nostra lista ancora Quindi system.out Punto println Di che cosa? Di modello Punto Size Facciamo così Elementi presenti Più modello Punto size Riavviamo di nuovo il programma Quindi adesso faccio Cancella Ovviamente elementi presenti Zero Quindi non cancella niente Scrivo pizza Lui me lo aggiunge Pizza33 E mi aggiunge pure questa Aggiungo anche quest'altra Vado a cancellare questa qui E ora mi dice che ce ne sono due Perché effettivamente ce ne sono solo due Cancello questi altri due Dice che ce ne sono zero Aggiungiamo di nuovo Un po' di elementi Cancello quello centrale Così ammuzzo E mi dice che ce ne sono quattro Cancello questo E ce ne sono tre Quindi come vedete Il nostro programmino In questo momento funziona Perfettamente Quindi ragazzi Abbiamo visto anche Come cancellare Degli elementi Dalla nostra lista Direi che Con questo ultimo tutorial Abbiamo finito di parlare Delle jlist E quindi d'ora in poi Possiamo tranquillamente Utilizzarle All'interno dei nostri programmi Per questo video Ci fermiamo qui E ricordatevi di iscrivervi Al canale Per rimanere sempre aggiornati Sulle ultime novità Dei video che faccio Mettete un mi piace Se volete Condividete pure E ci fermiamo qui E ci vediamo Nel prossimo video A presto E ci vediamo